Era una catastrofe, non si poteva circolare, tutti gritando come logos e allora arriva Martina e si puso a giocare a tennis in plena calle, i scotches iniziarono a circolare, era incredibile Llevava questo o questo? Inizia a dirigire il traffico, a un lato e all'altro Se controlla il tuo corpo, controlla la tua mente La gente era molto relajata Tutto è fantastico Mi gustaría chiamarle Martina, però è un bambino Buonas pernas Capisce